In una di queste scarpe c'è il segreto della comodità Valle Verde. Signora, le provi e vedremo se lo scopri. Sono molto belle. Non solo, ma cammini, cammini. Allora? Troppo facile. Questa è la vera Valle Verde. Ha ragione perché di morbida pelle, con soffici plantari, forme comode e belle. Fai conoscere ai tuoi piedi la bellezza della comodità Valle Verde. Tutti gli indirizzi dei centri vendita Valle Verde sono sulle pagine gialle.